Allora, buongiorno, siamo qui con Buonome di Girolamo, migliori in campo entrambi della partita Blue Tiger contro FC Componenti, finita 7 a 4, 7 a 4 per il Blue Tiger, Buonome autore di 3 gol e di Girolamo 2, tra l'altro Girolamo è difensore, quindi 2 gol addirittura. E sentiamo, sulla vostra situazione di classifica che cosa potete dirvi? Purtroppo eravamo 5 sconfitte consecutive, oggi siamo lì, 5 sconfitte consecutive addirittura? Bene avevamo vinto le prime 2, poi 5 sconfitte, oggi abbiamo vinto la trovo. Ho capito, sentite, volete farmi qualche saluto speciale? Salutiamo Fabrizio, Anastasio e De Rosa, il Passorino che oggi non è potuto venire, per cui a mamma è più familiare. E a mamma, saluto. E a mamma, ok. Mamma sta preparando la pasta qua. Va bene, allora arrivederci, ciao.